Buongiorno, sono pronto a raccontarvi la storia di Massimo per la sua Audi A4, car tablet, top di gamma, Android 11, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, Apple CarPlay, ormai conoscete a memoria, Full HD, display antiriflesso. Dopodiché andiamo a installare kit anteriore e posteriore, stesso kit, serie 1000 Pro Hertz. Sapete che facciamo solo impianti di qualità? È composto da buffer, tweeter e crossover. Andiamo a fare tutto in predisposizione, sia anteriore che posteriore, stesso kit. Kit 5 canali, canale anteriore, questo è un amplificatore, sempre serie 1000 Pro, 5 canali, kit anteriore, kit posteriore e subwoofer. Nuova serie subwoofer Hertz, top di gamma, 1000 Watt, fantastico. Andiamo a fare l'insonorizzazione sportelli, montiamo tutto questo kit con il car tablet e vi facciamo sapere a lavorazione eseguita. Grazie